Ciao a tutti, sono Alessio19870, alto gameplay di Assassin's Creed 3, via! Allora, dopo aver visto alcune scene adesso devo continuare qua. Ecco Giunone, quindi devo rientrare nell'animus. Ecco, sparisce Giunone, non compare, ah ecco, ricompare. E scompare, no. Ma rimane, ah è scomparsa, no. Niente, meglio ritornare nell'animus e andare avanti. Via! Bene, si parte. Ecco, si parte. Sì. Sì. E' un po' che parla la lingua indiana Non si capisce cosa dice Non ho capito cosa ha detto Guardiamo un po' Uh, gli alberi Un villaggio, e che è? Sequenza 4, Cana, Tar, Se, Ton E poi? Vedo, eh? Che? Che succede? Filmato, eccola Uh, ecco Connor E' lui One day star Eh 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 Un po' Sì, guarda il Dio, come... Segui gli altri nella foresta Mi ha un po' Sì Ma qua quel cane lì È il cagnolino Eh E lo manda a casa Nooo Sì 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 Nascondino Cos'è? Una cannuccia Eh, infatti Sì Sì Tocca a Conor Sì 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 Dico Indizi Trovo il tuo Ho impronte Trova i quattro bambini nascosti nella foresta Tratta Sì Guardiamo un po', uh, un altro indizio grazie all'occhio è l'Aquila Gli occhio Fantastico, una colpe No, e se ne va vai, che cazzo Cacchio, analizza poco bene l'indizio Oh, l'ispezione della zona ridotta Altri indizi, oh Analizza Ah, ah, dimmi che sei qua Un altro indizio, eh gnome Ah, ah, sei qua dentro Interagisci Ah, ma credo io, a me, a me, a me, a me, a me Eh, sì, un altro indizio di là Eccolo Io ho poco tempo per trovarli Altri impronte Altri, dov'è? Dov'è, dov'è, dov'è? Ehi, dov'è? Ok, dov'è, 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 dov'è? Sì Ma dov'è, ecco l'indizio Bell'indizio sta là Analizza Altri impronte poco tempo aspetta dimmi che sta là c'è qua dentro no no e che cazzo ecco ho messo un errore ma vaffanculo dimmi che sei sei qua dentro beccati ho ancora un minuto per trovare l'altro dov'è 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 oh oh se è qua dentro no e che cazzo 30 un indizio vediamo un po' ispezione la zona dov'è 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 accidenti qua dentro vediamo no dove è uno eh no ho fallito anche quello ma va che cazzo ahahah tutti sono le onde negli ah per gli obiettivi secondari ho sbagliato tutti e due torna all'albero tutte e due sbagliati tempo limite e errori ma che cazzo torna all'albero è qua eh eh o chi tocca a un altro e lo so e lo so ancora con le cannucce ancora con le cannucce eh ma conta troppo in fretta cacchio qua qua dentro oh vediamo un po' che succede filmato filmato che succede ma che che diavolo chi è chi è cosa mia chi è questo ah mi ricordo l'amico di hey Charles e l'altro mi ricordo e poi è il dottore dottore cosa è Charles di sì e che si rivede hai un'aria familiare dov'è che ti ho già visto vado boom gli sputa in faccia che modi sono questi eh eh lasciali ah e anche tu oh eh dobbiamo interrogare gli anziani eh dici solamente dov'è il tuo villaggio e sarai libero non dio no fa come ti dice ragazzino oh lo soffoca fatti il colo sai se stringessi ancora crack la tua miserabile vita finirebbe in un attimo eh no non farlo sei che feccia una nullità tu e tutta la tua gente vedete nel fango come anima senza sapere cos'è la vera civiltà eh eh i più saggi fra voi intuiscono cosa vi aspetta si gettano ai nostri piedi e inflorano pietà eh ma tu no no ti attacchi disperatamente alle tue tradizioni eh sei troppo ottuso per capire eh no e tu sei sei eh ah lo lasci eh cretino quindi ti risparmiamo eh così potrei riferire alla tua eh devi dire loro che prima otterremo ciò che vogliamo prima potrete tornare alla vostra patente inutile vita una buon affetto no? eh sì come come ti chiami? eh ha c'è ha c'è sì si ti troverò sì non vedo l'ora sono e sanno dolori per te eh eh aia che botta filmato oh si è svegliato torno al villaggio che botta che ha preso un cervo oh sta fermo non fa niente incredibile via 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 adesso si è ripreso sta nebbia ah adesso scappano no no è nato a fuoco chi è stato quello che è stato Charles quel deficiente no no come cazzo ha fatto no eh torno a casa oh ma non scappa no no che cazzo questo è morto no cazzo mamma mia che orrore poi sono ancora vivi dov'è oh accidenti che disastro qua 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 previ restruore detriti dai oh e ce l'ho fatta via 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 andiamo a cercare dio sarebbe sua madre oh accidenti andiamo via 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 qua dov'è di qua di qua presto presto dov'è ti agisci eccola è come cavolo arrivo è come accidenti non è che non è che l'altra parte aspetta vediamo è una cosa orribile pazzesco ah ecco di qua accidenti sono qui ora ora dov'è dov'è ecco ecco salva cani e tio verità tio perché che accidenti e quanto pesa oh che succede prende la mano no 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 c'è uno del villaggio l'ha portato via perché sequenza 4 nascondino completata due volte fallito ma che succede 9 anni dopo con la risposta sequenza 4 piume e alberi si che facciamo avanti si delle piume si 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 no perchè è un po' scena dall'albero andiamo avanti vediamo qua si si premi si trampicarti fantastico si 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 ecco il suo compagno è suo amico si ecco 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 No, non l'abbiamo che prima di essere tanti che non ci sono passati. Voi perché non ci si viene, ma non ci sono fatti, ma non ci sono capace, ma non ci sono avanti. Non ci sono fatti, non ci sono fatti. Non ci sono resa, non ci sono fatti. Voi, ma non ci sono fatti di azzare l'aggetto, non ci sono alle loro. Ma allora sempre stai che non ci sono fatti. Ecco! Sì, avanza tra i rami degli alberi. Ok, così, occhio, e ora? Accidenti! Oh, ecco di qua! Sì! Oh, me la cavo benissimo! Ecco, oh! Che salto di qua! Oh, oh! Cos'è? Che? Si! Wow! Oh, con gli alberi se la cavo benissimo! Oh, oh! Per quello? Sì, di qua! Oh, oh! Ora devo andare... eh eh! Si, passi... ahah! Di qua! Sto per... Eh! Dai di qua! Dov'è? ma perché ma scusa neanche 5 minuti di riposo che c'è che idiota lo sappiamo che scivolato prosegui verso la foresta che di qua ok di là di qua ok lì perfetto e adesso di nirata saliamo ecco il nido! eh si e scende recupera le piume di acuila Devo andare là sopra Ok qua Perfetto Di qua Qua Ecco là Su quella roccia devo andare Ecco Di qua Oh Un po' difficile ma devo farlo E che cacchio Oh Stavo per cadere E di qua E no Ma di qua devo andare Ah adesso Sì Che si ragiona Ecco ci sono Oh Ci sono riuscito Cupero la piuma Interagisci Presa Obiettivo Oh 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 Che salvataggio Quell'acqua Quell'acqua mi ha fatto cadere Raggiungi il segnale Raggiungi il segnale Recuperare Le piume Ah Questi qua Come cazzo faccio Sembra difficile Merda Meglio raggiungere Aspetta E noi Mi sembra un'impresa difficile Recuperare le altre Meglio raggiungere il segnale Ma Un villaggio Oh Che Non è andata a fuoco Questo è molto strano E quello Niente Ecco il segnale Interagisci Se questa Lezione 4 Lezione di caccia Alla prossima Missione Andiamo un po' No Alla prossima parte Lo faccio Dai Aspetta Un attimo Non mi posso fermare Un attimo E che cavolo Ecco qua Oh E che Adesso mi fermo E che Nella prossima parte Lo faccio Dai Eh Boh Mi fermo qui Nella prossima parte Fala quella Lezione di caccia Lì Niente Quindi Vi dico Che finisce qui Il gameplay Di Assassin's Creed 3 Quindi un ciao Da Alessio 19 8 170 Al prossimo gameplay Pilzio Bseits Caccia 2 5